Omega, intervista a Fernando Cortes, conquistatore del Messico. Signor Cortes, cosa l'ha portato fra gli aztechi? Io volevo l'oro prezioso degli aztechi. Per questo ha affrontato tempeste e battaglie? Chi conosce l'oro prezioso degli aztechi mi capisce. Un oro caldo, magico, coi riflessi di fuoco, legato ad un argento così puro che sembra un pezzo di luna. Come questo? Sì, come questo. E l'oro legato all'argento degli Omega Fuego Azteca. E questi sono i nuovi playa azteca, dove l'oro rifinisce preziosamente le casse d'acciaio dai bordi levigati a specchio. Playa e fuego azteca, fuori una raffinata lavorazione orafa, dentro la precisione dell'orologeria Omega.